Finita adesso, finita adesso, Milan-Roma 2-0 per il Milan, fate schifo, siete tutti osceni dal primo all'ultimo, dal primo all'ultimo dei giocatori, tutti osceni. Allora partiamo subito nel dire, vabbè il tempo sicuramente non era dei migliori, cioè giocare 35 gradi del primo luglio è una cosa oscena, veramente giocare, cioè a luglio, a luglio non si può giocare 5 e mezza, già partimo male, però comunque se c'è giocare Milan c'è giocare pure a Roma, quindi quella non è una scusante. E' una scusante per tutte e due, quindi non c'è niente da dire, però nel secondo tempo fate tutti schifo, fate tutti schifo dal primo all'ultimo, tranne Mirante, tutti schifo, tranne Mirante è l'unico che si salva. Allora partiamo subito da primo tempo, bruttissimo, pochissime azioni, Mirante salva un gol, poi qualche altro tiro della Roma, qualche altra buona azione, sicuramente è un po' meglio la Roma nel primo tempo, secondo tempo riparte bene il Milan, secondo tempo veramente la Roma penso non è neanche scesa in campo, non so se ha fatto un tiro in porta, secondo me non l'ha fatto un tiro in porta, e poi segna Rebic su un errore di Zappacosta-Limortacci 2, Zappacosta-Limortacci 2, che sbaglia il retropassaggio, poi pure lì difensori centrali morti, morti, perché su tre rimpalli gli è ritornata tre volte, la palla Rebic tre volte da solo, e dopo un po' uno segna, una volta ha fatto un miracolo Mirante, un'altra volta ha preso il palo, e poi è normale che segna, è facile la segnata lì, quindi vabbè se è un coglione sia Zappacosta e tutti i centrali. E poi vabbè ovviamente la Roma non è che ha fatto una reazione zero, ha fatto qualche cambio, è entrato Bastore, è entrato Diavarà, è entrato Diavarà, i mortacci vostri, è entrato Diavarà, Diavarà, ma poi entra Diavarà, cioè Diavarà che cacchio ti serve a quel momento della partita, quando ti recupera il risultato, metti under, metti qualcuno che ti può correre, non puoi mettere Diavarà. Poi Pastore peggio, no beh beh, peggio mi sento no, Diavarà è proprio un coglione, che dopo ha fatto pure il fallo al rigore, ha preso il giallo, ha spaccato una gamba a uno, Pastore pure, Pastore non lo so, non lo so Pastore che non si può definire un giocatore di pallone a sto punto, cioè va 3 all'ora, non è riuscito a fare un passaggio, cioè facciano 50 gradi, non è riuscito a fare un passaggio in 10 minuti, ho capito, magari giochi tutta la partita, poi mi sbagli il passaggio al novantesimo, ci posso stare, ma se entri 10 minuti, ma fallo un passaggio buono Cristo il Signore, però ti in altro svogliato, senza voglia, senza niente, indegno pure lui, magari se ne vaffanculo, partimo subito con le pagelle, non c'ho più voglia di parlare, poi segna appunto, vabbè, no, devo dire un'altra cosa, quando Diavarà ha fatto quel fallo da rigore, praticamente quello fa l'1-2, Diavarà, cioè ha fatto l'1-2 con Diavarà, praticamente Deo Hernandez, se gli ha ripassato Diavarà, e poi Smalling, vabbè, ha fatto un mezzo fallo, ma non so veramente che di, poi segna Ciananoglu, grande rigore, Mirante non può fare nulla, l'unico che si salva è Mirante, che ha fatto qualche parata, ha salvato quel gollo su Rabbits, ma non è che ci può fare tanto lui, ha fatto quello che poteva fare, infatti è l'unico sufficiente di oggi. Allora, partiamo subito, Mirante voto 6, come ho detto, partita tranquilla, non poteva fare nulla su tutto quello che è successo, Zappacosta voto 4,5, fai schifo Zappacosta, non puoi sbagliare un passaggio del genere, soprattutto perché sapevi che eravate morti, tutti morti, tutti quelli a Roma, tutti morti, e tu vai a fare quel retro passaggio così, ma pensaci 5 volte che ne hai un passaggio, manca di che era pressato, e ha passato praticamente, e quindi poi loro sono andati a segnare. Smalling voto 5, per quel motivo del gol che stava lì fermo, poi non mi sembra che ha fatto una grande partita, secondo tempo tutti uscini, come ho detto, quindi, e non ti dico che fanno schifo, ma hanno schifo tutti in questa partita soprattutto. Mancini voto 5,5, si salva un pochino perché ha salvato qualcosa, però pure lui ha sbagliato in quell'occasione, perché poteva almeno limitare i danni, almeno limitare i danni, quello poteva farlo, poteva limitare i danni, però non ha fatto niente, soprattutto in quell'azione che si è fatto trovare come morto de sonno, come Smalling. Spinazzola voto 5,5, partita uscena, non ha zecca in cross, anzi voto 5 perché non ha zecca in cross, non fa niente, Cristante voto 5 lento a morte, Veretù voto 6, l'unico che si salva insieme a Mirante e forse anche Mkhitaryan che ho dato anche lui 6, 6 meno, e poi è uscito, però nel primo tempo non è che abbia fatto niente, anzi no, gli diamo 5,5 a Mkhitaryan, Veretù forse 6 è l'unico che si salva un pochino insieme a Mirante, che ha fatto qualcosa di buono, ma niente di che. Mkhitaryan fa un buon primo tempo, buono, forse uno dei meglio della Roma del primo tempo, meglio tra virgolette. Pellegrini voto 5, un fantasma in campo, non lo so che cacchio gli è preso in queste partite, è entrato la partita scorsa, è entrato bene, però questa qua veramente, mamma mia, cioè, boh, malissimo, 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 Kleypert voto 5, guarda, va dritto per dritto, non si ferma un secondo, non si ferma un secondo, non alza mai la testa, non passa mai un pallone, voto 5, Mortangoli tua, Zeko voto 5 anche lui, a mal in cuore voto 5 perché forse ha sofferto il caldo, che ve devo dire, non lo so, sicuramente l'atmosfera, cioè il clima non era di migliori, però ho capito, se giochi così, gioco pure il Milan così, quindi non è che è una scusante valida per giocare male. Fonseca voto 5, voto 5 perché mi ho perso, però non è che poteva fare tanto, voto 5 soprattutto perché ha messo Diavara e Pastore in quel momento che non servivano un cazzo, posso capire Pastore anche se è scherzo, ma Diavara non te serve a zero, Diavara a zero te serve, quindi non ho capito. Andiamo con i subentrati velocemente, Carles Perez 5 e mezzo, anzi forse pure 5, vabbè mettiamo 5 e mezzo, non ha fatto un cazzo, è entrato Osceno, Kalinic voto 4 e mezzo, porco Giuda Kalinic, devi sparire dalla vita, devi sparire dalla vita, Nicola Kalinic, gli mortangoli tua, devi sparire, non ti si può guardare, non ti si può guardare Kalinic, porco Giuda, Pastore senza voto ha messo, ha giocato 5 minuti, però ha sbagliato due passaggi, quindi gli mettiamo voto 5, Diavara voto 4, entra, fa un fallo, spacca una gamba 1 e ci fa pure prende rigore, perché ha fatto l'1-2 con il Ternandez, non è che avremmo recuperato quella partita, perché sicuramente avrebbe vinto uguale il Milan, però uguale ha fatto la strozzata, che poteva pure evitare di fa, potevamo pure perdere 1-0, anche se era sempre una merda, però almeno non perdiamo 2-0. Perotti voto 5, mortangoli tua, Perotti, fai schifo pure tu, non mi va più di parlare, questo video sarà uscito sul primo canale, perché domani non uscirà la reaction alle ore 14 come sempre, cioè come sempre, come è successo la settimana scorsa, giovedì forse venerdì arriverà la reaction di Roma-Udinese, se riusciamo, molto probabilmente, quindi regà non mi va più di parlare, forse sempre Forza Roma ovviamente, sempre sempre Forza Roma, però partita o scena fate schifo, avete fatto schifo.